Torino è stata sempre una città che mi ha colpito e incuriosito. Sono una ragazza che nei giorni liberi ama tantissimo stare all'aria aperta, in mezzo alla natura, soprattutto nei parchi, è infatti uno dei posti preferiti o comunque che veramente mi piace poter passarci del tempo è il parco del Valentino e dove posso camminare con la mia cagnolina e stare tranquilla, prendermi un tè, diciamo fare una passeggiata o anche giocare proprio con lei o con gli altri cani. L'allenitto ATP Finals sicuramente saranno un evento bellissimo e importantissimo che porterà la città di Torino, tanto entusiasmo, tanta bellezza e penso sia un evento che possa portare gente, bambini, adulti, a stare insieme, a divertirsi e soprattutto a guardare del bellissimo sport.